22 marzo 2022 ore 10 a 7 e 12 con la mountain bike qua si pedala si è bello pedale con la mountain bike infatti qui là si è un po il pomeriggio che la notte mi alzo il mio cronoprogramma giornaliero ora è morta, passeggio di bici, lettura, ma questi sono l'ora migliori un po' prescretto però verso mezzogiorno il termometro segnava 23 gradi quindi si sta bene, anzi benissimo come sentiamo qui non ricorda che franzo da queste parti ma ci troviamo al limite qui c'è un altro corso di codisti, ciclisti, soprattutto donne, un po' fasciutelle ti amano abbastasciutta, anche gli uomini sono fasciutelli vieni e torno a casa dopo aver fatto un bel percorso comunque la maggior parte delle persone non sembra ma sono come sono organizzate nel senso che tutti i giorni fanno il classico percorso di 8 km sì, quindi provengono da comuni di Trasacco e dal comunico dei Marzi quindi il punto d'incontro ah ecco qua qua non c'è qui c'è anche percorso vita quindi la cosa più saggia fanno bene da qualche anno anzi da diversi anni molti giovani vecchi anche anziani dedicano l'ora, l'ora, la meno anche due ore, la loro quotidianità passeggiata per la salute, per la digestione, anche in compagnia quindi è bene camminare beh, come me, io sono Onnia, eh che mi dedico qui alla passeggia delle escuzioni hanno per закон certo allora per qua sento se sta 官ci att realtà che è нутa cazzo девaccio 9 9 8 8 9 7 10 Grazie a tutti.